Musica Cos'è? Una multa Ma scusa Ma Che cosa? Non ho fatto una caccia del tesoro Nooo Oh mamma Perché stai l'hai vista? Eh perché ho visto già Avevo già visto No guarda ho visto questo Ho detto magari arrivano E lo leggono Io l'ho visto L'ho letto subito Ma non sapevo Pensavi Un po' si scordata Gira intorno All'auto E inizia la caccia E vai Io ho già trovato il secondo Quindi il secondo Lasciate quei cioccolati che avete in mano Biglietto vediamo Chi lo legge? Io Vieni Sì Io raccolgo i biglietti Oh l'ha detto lui Se Muotare No Fammi vedere Allora se nuotare Ha scritto muotare Tu non sai Questa prenderai Che cosa prendi se non sai nuotare? Piscina Allora se non sai nuotare Cosa prendi? Un salvagente? Una barca? La barca? Ah sì Nella casetta Allora se io non so nuotare No allora non c'è niente qua Sì? C'è qualcosa? Vediamo 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 Leggi il tre C'è 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 Sì io tengo biglietti Siamo fortunati che abbiamo già Poppi ma hai visto che è arrivato il coniglio Non è arrivato a casa per Maya secondo me Le lei voglia di tenere tu gli ovetti Ma che festa gli facevano Sì Maya se lo mangiava il coniglio Però scusa Se la griglia vuoi fare Vuoi Vorrei fare Il proprio Davide ha già trovato ancora prima che tu finissi di leggere Date tutti i cioccolatini a papi E i biglietti li tenete Quanti cioccolatini Prendiamo il biglietto Vai Davide dai cioccolatini a papi Vediamo Un cioccolatino di Asia Lei c'è un cioccolatino di Asia Ma magari non Lì andrai Allora Lì andrai Se Se piscina Accenderai Se la piscina accenderai Non lo so Dove si accende la piscina? Se la piscina Accenderai Il motore Il tuo fratello è già lì che cerca Il motore Però la devi accendere Il motore come fa a funzionare Con la luce Il pannello solare No? Alla corrente Giusto Eccolo Sono più in gamba Sei astuto eh Io tengo biglietti E papi la cioccolata E pensavo che non era venuto E invece è venuto Se ti piace Dondolar Ma neanche venisco Qui potrai Provare Provare Se ti piace Dondolar Qui potrai Provare Ecco qua Piano piano Non litigate Grazie Vediamo Vediamo Cosa abbiamo trovato Dove vai? Ah già Che bene Le caccia il tesoro Anzi Questa è una caccia alle uova Non è una caccia il tesoro Vediamo Vediamo In fondo Ai fini Do Dovrai Cercare Cercare E tre sorprese Troverai Tre sorprese Troverai Tre sorprese Stai perdendo i cioccolatini Tre sorprese Davide Tre Tre Ne devi cercare Tutte e tre Le trovate E chi ha trovato Quella con la busta Lui Ok Aspettate che c'è un cioccolatino Qua che è caduto Se no poi se lo mangiano i cani Può essere molto pericoloso Vecchie Bici Troverai Le cose Vecchie Bici Vieni Lele Le vecchie bici E adesso Ho scritto Vecchie bici Scusa 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 Sono al foggiro Non c'è più niente Eccolo Eh perché sta scritto così C'era 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 E' piena mia Quanti C'è il papi è pieno Pieno di sacchetti papi Dai un bacio A mamma E papà E' l'ultima tappa Si Svelerà Oh mamma mia Non ce la farà mai Ecco Allora Andrea il coraggio Di dare un bacino a papà Non ce la farà mai Che dici Non ce la potrà mai fare In un video mai In un video mai Dovete spegnere le telecamere Si Dai Davide si Vecchie dai Grazie Un bacio a papi Aia Mi sa che Invece Davide la fa telecamere Allora lo fa telecamere spente Allora guarda Mi riprendo così E tu ti nascondi dietro Che tu non ti si vede Guarda Guarda così Me la dai in questa guancia qua Che non è Vedi che non c'è nella telecamera Allora la faccio così Allora copri dai Copri così vai Ecco dammelo dietro la mano Vai Vai No Non si vede Non si vede Guarda Non si vede Ecco guarda La metto grande così Vai Dammi il bacino Ok Vai Davide No Davide no A papi a papi Non c'è neanche la barba E' tutto sbarbato papi Dai Abbiamo un problema con i bacini Dai copriamo papi Dai vai 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 Dai bacino Ma che cos'era Una testata Ma non era un bacino Una testata Adesso Scusate però Cosa significa Che noi dobbiamo aiutare A svelare Il mistero dell'ultima tappa Io non ho idea Sinceramente Loro non sanno niente Io non so niente ragazzi Davvero Come facciamo No Vediamo 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 No Cosa ho trovato Ho provato Cosa c'è No Ho provato Ma dai Quattro uova no l'idea inside no ma è il camion guarda dei pokemon bellissimo bene questo è tuo questo è il mio altri gioccolati come hai fatto a pensarci che fosse lì ho detto sarà qui intorno il posto più grande se la maglia che forte non voleva venire per la maglia non abbiamo neanche il tavolo dove metterci per aprirle che abbiamo ritirato perché oggi c'è vento li apriamo dalla nonna andrea è un po' arrabbiato perché davide è felicissimo fai vedere cosa hai trovato tu davide di pokemon sapete quella cosa per metterlo sul telefono quando vanno a vedere da vicino bello mamma posso posso vincere vedere il telefono giallo vedremo per quando andate in gita possiamo dare il telefono vediamo quello giallo è mio e lo taglio è mio e questo invece è quello di andrea tra l'altro corrisponde al sentimento di andrea in questo momento vero andrea guarda perché non hai trovato il pezzo che volevi tu poverino beh ma dai dobbiamo essere felici di questa caccia alle uova lui questo e anche io questo se trovavamo cioè tutte e due uguali se trovavamo questo questo e questo e infatti mi mancava solo questo infatti infatti ma sono belle poi siamo fortunati che mi hanno fatto una bellissima caccia alle uova però sono anche contenta di questo non tanto però ha ragione sembra che è una maglia perché tiene caldo un saluto un saluto